Il Covid ha colpito duramente in tutto il mondo e troppi bambini hanno dovuto lasciare la scuola e sono sempre più a rischio di sfruttamento e violenza. Save the Children sostiene i bambini in Italia e nel mondo, garantendo cibo, scuola e protezione. Con una piccola donazione, insieme, possiamo fare la differenza. Invia un SMS anche tu al 45533. Proteggiamo i bambini, i loro sogni, il loro futuro. Grazie.